Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Bilancio di fine lavori e temi per la ripresa a settembre. Edilizia residenziale pubblica, slitta a settembre la revisione della legge regionale. Dall'andamento delle ultime sedute d'aula, prima della pausa estiva, ai temi che saranno affrontati alla ripresa dei lavori a settembre. Questi gli argomenti trattati dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ai microfoni dei giornalisti presenti a Palazzo del Pegaso. Innanzitutto consentitemi di ringraziare gli uffici, tutti, del Consiglio della Giunta. È stata una settimana intensa, frutto di un grande supporto da parte degli uffici. Ringraziare tutti i colleghi per l'impegno e la dedizione che ci hanno messo in questi mesi difficili della pandemia. Ci aspetterà un inizio intenso, pieno di temi importanti. Si parlerà dell'ERP, si parlerà dei fondi strutturali, cosa chiederemo all'Europa, come potremo permettere alla Toscana di ripartire più veloce. Si parlerà del piano dell'economia circolare, perché una regione che vuole competere deve avere la capacità di saper smaltire, di saper riciclare tutto quello che produce nel proprio territorio. Insomma, sarà un settembre caldo e poi all'ordine del giorno, come sapete, ci sarà la modifica dello statuto che abbiamo deciso di calendarizzare subito a rientro. C'è stata una discussione seria, non era semplice, nel senso che abbiamo avuto così tanti atti in così poco tempo. Ho chiesto al Presidente Gianni, alla Giunta, di cercare anche nel futuro di farli arrivare un po' prima per permettere a tutti i colleghi di poter approfondire. Ci sono stati provvedimenti importanti. Io penso alle risorse per i pezzi, i piani educativi zonali, le aspettavano i nostri comuni per poter partire. Insomma, è una variazione di bilancio importante e che porta tante risorse sui nostri territori. Slitta a settembre l'adeguamento della legge regionale 2 del 2019 sull'edilizia residenziale pubblica. L'esame dell'atto verrà dunque affrontato alla ripresa dei lavori. Il testo era passato a maggioranza in Commissione Sanità e Politiche Sociali, presieduta da Enrico Sostegni, commissione che aveva dato il via libera a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico, l'astenzione di Fratelli d'Italia e il voto contrario della Lega. Il provvedimento è stato ritenuto necessario alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di una norma analoga contenuta in una legge regionale della Regione Lombardia, nella quale si fissa il requisito della residenza o dell'attività lavorativa da più di cinque anni sul territorio regionale come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. È sempre opportuno approfondire una legge che è così importante che riguarda l'edilizia popolare. La casa per molte persone è un sogno per la loro vita, avere un'abitazione di disponibilità pubblica è importante, è un diritto, ma noi dobbiamo anche tutelare ovviamente il nostro patrimonio inserendo anche dei meccanismi di doveri da parte delle persone. Nella scorsa legislatura è stata fatta una legge a mio avviso ottima rispetto all'attribuzione degli alloggi popolari, concertata, discussa, arrivata in fondo, si tratta di migliorarla, da dove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è, perché comunque comprende anche delle nostre richieste, quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno cinque anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione, consentendo comunque a tutti di fare domanda, dando un principio importante, mantenendo un principio solidaristico importante, cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno ma nel frattempo consentire magari anche alla cosiddetta classe media di poter accedere e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. C'era il dubbio di costituzionalità su un passaggio rispetto all'accessibilità, alla domanda, quindi teneva fuori molte persone e il rischio di mandare i comuni incontenzioso ci ha trovato d'accordo sul fatto che la Giunta facesse questa proposta e poi i nostri emendamenti sono stati accolti dal Partito Democratico di fatto e quindi noi siamo a sostegno convinti di questa norma. La Lega ha presentato oltre 2000 emendamenti e il capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, ha chiesto un parere di ammissibilità, commentando così la posizione leghista. Un atteggiamento assolutamente incomprensibile perché questo istruzionismo che la Lega sta praticando per la modifica della legge 2, la legge toscana, che è una buona legge, che però va modificata sulla base della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale che ritiene alcune norme che prevedono l'impossibilità di accesso alle gradatorie se non c'è una permanenza della residenza in Toscana, così come prevedeva la legge per più di 5 anni, come norme discriminatorie. Noi abbiamo inteso adeguarci a questa sentenza della Corte, sentenza tra l'altro emessa sulla base di norme vessatorie che alcune regioni amministrate dalla Lega hanno prodotto, sono la Lombardia e l'Abruzzo ad esempio, e anche sulla base della richiesta che tutti i sindaci, l'Anci ce l'ha chiesto, perché i sindaci hanno bisogno di pubblicare bandi per rinnovare le gradatorie e aspettano questa modifica per non fare bandi che non siano soggetti ad impugnativa. E quindi ecco perché avevamo inteso approvarla in tempi rapidi. In più, i più danneggiati saranno i cittadini, le famiglie che hanno i requisiti per poter fare la domanda, che sono al 90% tra l'altro cittadini italiani e che invece dovranno aspettare perché i bandi saranno fatti più tardi. Quindi è un atteggiamento per noi incomprensibile, era stato trovato un accordo in commissione anche con una parte dell'opposizione per trasformare la soglia di accesso in un punteggio premiale, ma che rispettasse comunque il dettato costituzionale. Approvare una legge che sarebbe stata un disastro sul territorio per noi era sbagliato. Certo, se il PD avesse subito ascoltato quello che noi gli chiedevamo e avesse preso in considerazione i nostri emendamenti che garantivano l'uguaglianza di accesso alle case popolari a tutti i cittadini che ne facevano richiesta, probabilmente si sarebbe poso a votare. E ci tengo a dire che noi eravamo pronti a star lì fino a ferragosto per arrivare a una soluzione. È stata sposta da settembre e io spero che questo tempo sia utile al PD alla maggioranza per valutare l'opportunità, che secondo noi diventa indispensabile, di inserire criteri che garantiscano le uguali opportunità a tutti i cittadini che fanno richieste e che hanno bisogno. Però quello che noi abbiamo letto in questi giorni sono anche le accuse da parte del PD che ci dice che abbiamo bloccato i bandi. Sono bugie. I bandi si possono fare, la nostra legge è vigente, non è impugnata, non è oggetto di sentenza. Quindi tutti i comuni possono fare i bandi. Dirò di più, le graduatorie in essere possono scorrere perché ovviamente finché non ci saranno le nuove graduatorie rimangono in essere quelle vigenti. Le case popolari possono essere assegnate e spero che tutti i sindaci lo facciano perché ci sono molte, troppe persone che aspettano da anni se non da decenni. Noi nella proposta di legge giudichiamo sbagliato intanto un principio fondamentale che è quello dell'uguaglianza per i criteri di accesso al bando. Questo vale non solo per gli italiani e per i toscani ma anche per gli stranieri che qui risiedono da tanti anni. Perché da oggi con quella proposta di legge, se passasse, chi è qui alla residenza da un giorno può chiedere l'alloggio popolare. Ovviamente noi italiani come tutti sanno siamo molto controllati dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista finanziario. Quindi basta un piccolo controllo per sapere se qualcuno di noi chiede la casa popolare e non ha i requisiti per chiederla. Mentre chi arriva, è arrivato da un giorno lo deve accertare il paese di origine e questo per un principio di equità. È stato proprio il consigliere regionale Giovanni Galli ad illustrare la posizione della Lega e ad annunciare la presentazione degli emendamenti individuando tre punti fondamentali. Per l'accesso alle case popolari sia importante la residenza di tre anni, scusate, la cittadinanza di tre anni italiana e la residenza in Toscana di almeno un anno. La seconda è proprio il principio di eguaglianza. Siccome il Partito Democratico parla di eguaglianza togliendo il fatto dei cinque anni e che a quel punto tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, però gli stessi diritti e gli stessi doveri anche nella presentazione della documentazione. Perché il principio di eguaglianza credo che vada interpretato sotto tutti gli aspetti. Un conto è la residenza sul territorio, ma è un conto anche i documenti che si presentano. Il cittadino italiano è costretto a presentare tutta una serie di documenti, tra i quali anche le certificazioni fiscali e patrimoniali, cosa che invece allo straniero, questo non è lo straniero, l'estracomunitario. Il comunitario sì, perché logicamente c'è la possibilità di andare ad accedere ai vari catasti delle varie nazioni, oppure i vari rapporti che ci sono fra le nazioni. E questo crediamo che sia un fatto importante, perché noi non possiamo fare finta di niente e penalizzare sul principio proprio dell'uguaglianza. Terzo, è una cosa innovativa, però abbiamo fatto un ragionamento. Io vengo dalle case popolari, piazzale Genova numero 6 a Pisa, e credo di aver vissuto in tutti questi anni, nonostante abbia avuto anche una vita, diciamo, da benestante. Non lo nego, però mia mamma vive ancora lì. E ho visto quella che è stata l'evoluzione di questi anni. Ed è logico che la conoscenza della lingua italiana, secondo me, agevola anche l'aggregazione, agevola e magari riesce a sostenere quelli che sono oggi i motivi di vivere all'interno delle case popolari, ma soprattutto evita tanti litigi. Ci sono tantissimi comuni che vorrebbero uscire con i nuovi bandi per le case popolari. Noi, come Fratelli d'Italia, abbiamo fatto un lavoro importante in commissione, ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi, che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione. Quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante, dove appunto la storicità della residenza è un criterio premiale, così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità, se non di più di chi vive qui da anni. Ma guardate, sono sorpreso della legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica in regione toscana e sono sorpreso da due fattori prevalentemente. Il primo è che la sentenza della Corte Costituzionale non impugna la legge della regione toscana, impugna un'altra legge e noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani, cioè a chi sta in questo paese da più di dieci anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia, nei primi cento in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica, 70 sono extracomunitari. A maggior ragione, in un momento difficile come questo, dove c'è tutta una fascia grigia, che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno, che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci, abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case. E poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica, che è un altro grandissimo tema che in questo paese, in regione toscana, non viene affrontato. Non si costruiscono più case e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del piano nazionale di resilienza non c'è un euro per la costruzione di nuove case. Noi fermo il piano case, è l'ultimo piano case fatto, è del 1974. Non sono state più costruite case. Addirittura i dati ci dicono che ci sono centinaia di migliaia di case in Toscana che sono sfitte, che sono vuote o che sono occupate e che i comuni non se ne riappropriano per darlo a chi effettivamente ne ha bisogno. Ecco perché a prescindere da quando arriverà la legge di edilizia residenziale pubblica, la discuteremo molto probabilmente nel primo consiglio regionale di settembre, porteremo dentro quella legge lì un criterio sacrosanto. La casa la deve avere, chi da tanto tempo sta in gradatoria e chi sta in Toscana. La legge andava fatta perché si tratta di sanare oltre che una grave ingiustizia sociale anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato. Quindi trovo che sia corretta. Il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo. Quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più. Secondo noi doveva semplicemente essere cancellato il limite, il nodo dei cinque anni, però sicuramente la legge sull'edilizia popolare potrebbe essere anche aggiustata in altri modi. Quindi ci riserviamo anche a settembre di proporre magari una proposta di legge da affiancarsi a questa. Questa era la nostra ultima intervista. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna dopo la pausa estiva del Consiglio regionale con la ripresa dei lavori in programma per settembre. Grazie.